Siamo con Francesco Ardizione nella settimana che porta l'amichevole di domenica contro il Como, un appuntamento sicuramente importante, ci tenete a fare bella figura perché si giocherà nuovamente allo stadio Silvio Piola anche perché il Como è una squadra che incontrerete anche in campionato quindi ovviamente già magari qualche fase di studio. Certo ci teniamo perché si sta avvicinando la prima di campionato quindi vogliamo iniziare a fare anche qualche risultato che dia un po' di fiducia alla squadra e cercheremo anche di studiare un po' l'avversario dato che lo incontreremo in campionato e ci stiamo preparando bene. Che punto è la prova Arcelli in questo momento della stagione con il campionato che comunque dista ancora due settimane abbondanti? Io penso che siamo a buon punto, abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato bene, i carichi sono stati tanti, sono stati pesanti e stiamo smaltendo adesso un po' la fatica della preparazione quindi stiamo entrando un po' tutti in condizione e sicuramente arriveremo al 6 settembre in forma. Abbiamo chiesto anche annunzio di Roberto in settimana, meglio sarebbe stato iniziare questa settimana il campionato o queste due settimane in più possono giocare un ruolo fondamentale ovviamente poi sapendo che bisognerà recuperarle queste due partite durante l'anno? Io sinceramente avrei preferito iniziare un po' prima però queste due settimane sicuramente serviranno a mettere ancora benzina nelle gambe e ci serviranno per arrivare alla prima di campionato un po' più in forma rispetto all'inizio, a quello che si prevedeva.